L'ultimo piano è il suo appartamento? Sì, l'ultimo piano era il mio appartamento. E lì dentro ci sono ancora sei gatti? Cinque gatti perché uno è stato avvistato delle macerie vivo. Non può recuperarli? In questo momento non mi danno la possibilità di avvicinarmi neanche alla finestra, quindi io non li posso chiamare, non so neanche se siano dentro, se siano vivi, se abbiano subito delle ferite e quindi io avrei il bisogno che qualcuno mi faccia avvicinare, mi faccia prendere la responsabilità di avvicinarmi. La signora Lari ha perso tutto, ora vive dai genitori. Sto vivendo da baraccata, così, vabbè ma non si aspetta per il futuro. Innanzitutto di non crollare, che è la prima cosa, perché ovviamente devo gestirla questo stress. Lo so che cosa mi aspetto, non glielo so dire, adesso vivo alla giornata, io voglio i miei gatti.